Rubavano in media 1.300 litri di carburante al giorno nei mezzi posteggiati nella discarica di Bellolampo. Una vera e propria organizzazione con alcuni dipendenti della RAP, la società municipalizzata, con molti arrestati. 25 le persone, 13 in carcere, 8 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata la commissione di furti e ricettazione, falsa attestazione della presenza in servizio, furto aggravato e ricettazione. L'operazione è stata effettuata dai carabinieri della Compagnia di San Lorenzo e dalla Procura. I furti venivano commessi nella discarica di Bellolampo quando i mezzi arrivavano nell'impianto per conferire rifiuti. Almeno 1.000 litri di gasolio ogni giorno. Tra gli arrestati nell'operazione Beautiful Flash ci sono 10 dipendenti della RAP, due ex gestori di impianti di carburante in via Leonardo da Vinci e gli altri sono ricettatori che acquistavano il carburante e lo rivendevano. Le indagini sono iniziate a giugno del 2018 quando i carabinieri avevano fermato 5 dipendenti della RAP e un'altra persona intente a rubare il gasolio nel parcheggio della discarica di Bellolampo. Era emerso nel tempo che c'erano ammanchi di carburante dai mezzi che si occupano della raccolta dei rifiuti. La discarica era tenuta sotto controllo. A giugno, nel corso del furto, è scattato il blitz. I cinque dipendenti della discarica della RAP insieme ad un'altra persona trovata nei pressi del mezzo avevano già prelevato 900 litri di gasolio. Adesso l'indagine è sfociata negli arresti. All'operazione dei carabinieri hanno preso parte 150 militari, compresi cinofili, rinforzi del dodicesimo reggimento ed un elicottero.